Ciao ragazzi, benvenuti... Oh, vabbè, spegno. Push and pull, oggi vi voglio parlare di questa tecnica pazzesca. Ci ho messo un attimino per impararla bene, ma quando ce l'ho fatta sono impazzito. Vabbè, ero già impazzito prima in realtà. E' sempre stato un calando e adesso sono diventato così. Andiamo direttamente sul pad così vi faccio vedere come funziona questa tecnica e a cosa serve. Perché questa tecnica è un po' particolare e serve proprio per fare due colpi in uno. Mo' vi spiego. Eccoci qua, allora, praticamente come funziona questa tecnica. Dobbiamo andare a dare un primo colpo con il polso normale e il secondo colpo invece lo daremo con le dita. Per questo diamo due colpi in uno. In che modo? Facendo così. Partiamo con la bacchetta su e facciamo il movimento del free stroke. Ricordate il free stroke in cui dovevamo suonare e poi farci aprire le dita direttamente dalla bacchetta per sfruttare il rimbalzo. Questo è il primo colpo di polso. Il secondo colpo partirà di qua e lo faremo solamente chiudendo le dita. Il polso rimane fermo e le dita si chiudono. Quindi primo colpo di polso, secondo colpo di dita. Ricordatevi, quando dovete fare il secondo colpo, quindi siete in questa posizione qua, usate all'inizio solamente le dita. Quindi chiudete le dita, fate questo movimento qua. Tic. Fine. Il polso non si muove assolutamente. Quindi primo, secondo. Sia di destra sia di sinistra ovviamente. Primo colpo, secondo colpo. Se non l'avete mai fatto farete il primo colpo e poi il secondo colpo vi succederà questo. Chiuderete le dita ma la bacchetta non riuscirà ad arrivare al pad. Fatelo un po', non vi preoccupate. Più che altro la cosa a cui dovete fare molta attenzione è questa. Quando fate il secondo colpo, cercate di farlo bello potente. Non fate primo colpo potente e secondo colpo chiudendo le dita così tanto per chiuderle. Chiudete energicamente in modo da avere un colpo bello forte. O comunque cercare di avere i due colpi, sia quello di polso sia quello di dita, con lo stesso volume. Questo cosa serve? Questo serve per avere i doppi colpi veloci. Perché se io faccio così, ho due colpi e voi mi direte sì, sai che velocità. Questo è da portare pian pianino a velocità. Se noi facciamo i due movimenti più velocemente avremo Poi dopo dovremo andare a mettere insieme destra e sinistra. Quindi facendo due colpi di destra e due colpi di sinistra. Il consiglio che do però non è tanto quello di dire imparo a farlo e poi faccio subito due colpi di destra e due di sinistra. Così cerco di farlo subito veloce. No, concentratevi prima solamente su una mano. Quindi cercate di fare fluido questo movimento. La push and pull vera e propria è quella di fare questi due movimenti continui. Fare quindi polso, dita, polso, dita, polso, dita e così via. Portando alla velocità. Questo ci fa perché? Perché magari non farete mai questa cosa. Serve perché aiuta a rafforzarci il polso e le dita. Quindi quando poi andremo a fare i due colpi avremo polso e dita molto più potenti. Stessa cosa con la mano sinistra. Cioè di fare polsi e dita continuato. E poi dopo un po' che l'avrete fatto allora incominciate a mettere insieme le due cose. Partite molto lentamente pensando al movimento. E poi pian pianino tirate su. Non ve l'ho detto, mi sono dimenticato. Allora, Giorgio Meyer, poi non so se sia il nome giusto o no, però io di solito prendo il suo modo anche di dire le cose perché lui è uno che ne sa. Giorgio Meyer chiama push and pull quella continuata, nel senso polsi dita con una mano sola. Invece il fatto di fare i due colpi e basta, sia di destra sia di sinistra, lo chiama snap. Quindi questo, snap, questo, push and pull. Ok, spero di essermi spiegato. Ovviamente fare la push and pull sul pad, fare la push and pull sul rullante e farla sul timpano è diverso. Cominciate a capire bene come funziona sul pad, la push and pull o lo snap, tanto alla fine il movimento è lo stesso. E poi cercate di spostarvi sulla batteria. Ad esempio cercate di farlo prima sul rullante, poi sui tom, poi sul timpano. E cercatevi il rimbalzo, la difficoltà del timpano qual è? Perché ha poco rimbalzo. Quindi cercatevi il rimbalzo e cercate di avere i due colpi che facciamo con i polsi e con le dita uguali, allo stesso volume. Ovviamente è difficile, ci vuole tempo, però volendo ci si può arrivare. Spero di essere stato utile, se avete qualsiasi cosa da chiedermi su questa tecnica, su altre tecniche, su quello che volete, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!